allora ragazzi ho messo un petardo qua dentro dentro questo sedile tutto bello rotto vedete? e adesso lo accenderò vediamo com'è ecco quella sedina adesso non andrò ad accendere ok andiamo a vedere ha fatto tipo un buco così si è posato via tipo tutta la pelle niente di che cos'altro vogliamo fare? lo mettiamo qui un altro no lo metteremo all'interno dell'acqua qui cioè all'interno di questo coso di plastica lo spaccherò ve lo dico com'è? vediamo l'ha spaccato tutto carino interessante spero che il video vi sia piaciuto ciao 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 ciao